ben tornato grazie ben tornato sulle strade di san francisco di tutta la california e riporta prima tappa questo viaggio in questo viaggio verso la libertà la questura la questura bisogna andare a risolvere un paio di situazioni ma l'avvocato che ha detto di oggi del processo non mi ha chiamato non ti ha chiamato quindi sei già pronto per l'arresto il borsone portate il borsone sì ce l'ho già portato quello è importante senti ti diamo una notizia per noi brutta per te non dico bella ma quanto meno dopo una lunga riflessione e non lunga aspetta devo chiedere al abbiamo riflettuto non solo con lui anche con gli altri abbiamo deciso che potrai tornare nella casa di quinto potere tino è ancora non molto convinto però siamo in una democrazia e quindi abbiamo abbiamo deciso che tu entri nella casa di quinto potere il direttore sono confrontato anche con gli altri da una faccia di vino direi proprio lui che cazzo ne sa lui non lo sa non lo sa lui è costantemente contrario c'è perché chiamo costantino è chiaro che costante sei contraria ora è la stessa cosa ragazzi è la stessa cosa ragazzi ma finitela mamma mia finitela finitela questa è brutta tino quindi stavamo dicendo ovviamente questa è un appoggio temporaneo sicuramente che dovrei rispettare proprio più di quanto tu non l'abbia fatto non mi riferisco a quello che ti è capitato perché non era colpa tua dico in generale ci siamo intesi quindi non posso far venire i brasiliani non puoi far venire nessuno non puoi far venire nessuno e non puoi portare niente dentro niente allora il Pantox cardiaspirina a parte le medicini a parte le medicini molte di quelle sanno già dentro alcune ce le ho ancora qua e lo sono a volte sanno già dentro sia chiaro che è una scelta che rispetto a tante cose anche quelle che non abbiamo condiviso con i nostri amici ci pesa un po' però l'alternativa era quella di farti stare per strada e dopo tutto quello che abbiamo fatto insieme non ce la siamo sentita ah comunque ma dando al netto di tutto ciò delle cose ma sto probabilmente trovando anche un lavoro stai trovando un lavoro in campagna con la dottoressa con la dottoressa perfetto che però non include anche la sistemazione e l'alloggio per il momento no però ha detto per il momento se c'è l'appoggio almeno diciamo ti do la possibilità di lavorare guadagnarti qualcosa e poi capire certo ti puoi pure sistemare un poco più decentemente tra virgolette non dare più fastidio l'associazione e le cose ad antonio ma il co da antonio in generale l'antorio nome comuni di fantasia antonio devo dare fastidio a prescindere va bene e quindi ora vai in questura e va bene ti aspettiamo risolvi sto problema poi ti accompagniamo se mi vedete fare con la manina scendi il borsone in cuor mio io spero ancora che ti arresti no eh in cuor mio in cuor mio no con te e ovviamente ovviamente tengo a precisare che la mattina caso mai non dovessi andare a lavorare ad essere spezzato da casa non si esce no avrà dei compiti da fare perché dovrei manutenere e pulire anche l'altra casa quale casa quella di fronte quale dove stava gianca si brava ok vabbè chi mi paga ma ho fatto il fioretto a madonna oggi eh vai a risolvere sto problema va bene va bene nel frattempo faccio anche la denuncia si 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 minorato amminorato minorile amminorato sei contento non lo so stiamo facendo la cosa giusta ma non lo so se non si sbaglia non si sa certo con tu vai a sapere le cose prima è entrato ma della serie che dio ce la mandi buona non ti ho detto tutto ancora non ti ho detto tutto che altro bisogna dire a parte che ha avuto una proposta nel tarantino non è una cosa che si può fare subito ma dopo la pubblicazione del video ha avuto una proposta interessante lavoro e alloggio solo che il lavoro è un lavoro per cui deve stare sempre in movimento e gli diamo il tempo di un po di convalescenza poi questa persona ci ha detto che potrebbe aspettare ancora un po' fino a quando lui sta a me non glielo diciamo ancora del dettaglio ovviamente vedrà il video non siamo deficienti non lo diciamo ancora in dettaglio perché così non lo sa neanche lui ma non è questo quello che non ti ho ancora detto lo dirò in separata si che faccio spengo allora io direi di fine anche perché potrebbe esplodere tutto new york e new jersey se non pubblicamente questa cosa va bene allora spengo ciao direttora tu mi raccomando con la scusa della telecamera si faccia il menù chi sei il quotidiano direttore mi sembra una targhetta temporanea per fare che citofono e appartamento la citofono lo vediamo adesso lo vediamo qual è il citofono è tornata a casa dell'emorragia è intornata a casa dell'emorragia bella eh allora giova come ti ho detto in macchina per me questo per noi questo è una specie di test di ultimo test quindi gestisci tra come si deve perché fino a morse no ti ho detto gestisci la come si deve perché la situazione un po di sangue ah va bene non sto parlando no che l'emorragia è un cazzo e tina fate così vabbè lasciamo perdere anche perché ribadiamo non tutto viene sono delle cose che devono restare necessariamente coperte dalla privacy qua ci sono ancora i tuoi medicini che sana c'è quanto che cosa manca una cosa questa sorta fogli c'è tutto adesso bisogna procurarci il materasso le lenzuolo il cuscino perché quelle cose ma l'abbiamo buttate tutto ma per ora la mia felpa come l'ho lasciata bravo riprenditi riprenditi un po per il momento poi con calma domani facciamo un po il punto della situazione la mia la mia bambina tutto davanti al cazzo fammi saluta la mia bambina che fra poco la potenza da chi l'hai rubato questo è il regalo di gigi a questo regolo di questa era del figlio di luigi non la usava più ho fatto una volta la regala a te mi sono fatto una bicicletta infatti oggi ho chiesto ci fa più culo che anima ok ho chiesto anche al dottore posso usare la bicicletta dopo che tutto di punti puoi fare che cazzo anche andare a lavorare si anche l'hai detto anche da lavorare e per quella l'ho presa quello nel caso trovo qualcosa un po più distante ciò c'è anche il mezzo ma noi ce ne andiamo tu sistema ti si deve riempire forse una porta porta le cose ti sistemi da non ti prendi qua è un po per ciascuna non è solo la conte da è peccato solo per ora ragazzi perché sai quanto altre cose succederanno non ti prendi qua